LICURIZIA PURISSIMA LICURIZIA PURISSIMA Un mondo di soddisfazioni, di comfort, di sicurezza. Nuove le sue dimensioni compatte, sorprendenti le prestazioni automobilistiche, infaticabile sul lavoro, entusiasmante nel tempo libero. Fiat Scudo, aziende di successo grandi e piccole lo hanno scelto, anche Maurizio. Veicoli commerciali Fiat, l'Italia che lavora. LICURIZIA PURISSIMA Dolce e Gabbana Parfum Quando ami, metti un blues, il preservativo che libera l'amore. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Ecco la prova, mi tradisci? Guarda qua, due borsi. È un zenetto. Ma dove credi di andare, eh? Ah, una straniera. Infame. Una guida turistica. E con i migliori alberghi. Una vera fuga d'amore. E non in Italia. In Europa. E perché non nel mondo? No! Chi è fedele a Repubblica e raccoglie ogni giorno i punti check-in, vince prami sicuri, anzi sicurissimi. E questo? E in più c'è l'estrazione di un giro del mondo in business class. Per due? Per due, sì. Fermi. Mitsubishi Pajero. 14 versioni. Da 42 milioni e 950 mila lire. Ahahah! Oh, 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 oh. Se basta l'acqua fredda per sentire dolore, basta Sensodyne per proteggerti dalla sensibilità dei denti e per rinforzare le tue gengive. Quindi basta con la sensibilità. Con Sensodyne. Il gelato è sempre un piacere. Ogni giorno Sensodyne, lo specialista per denti e gengive sensibili. Ferrarini presenta... Su, Adi, il modo... Però ha giurato di non fare casino. C'è mia moglie con i bambini che dormono sopra il negozio. Lo stai entrando. Aspetta, sono io cosa dare. Ma i ferrarini. Pensi che le signorie qui vengono solo per me? No. Anche. Dai, ragazzi, ferrarini interi, no? Ragazzi, vi... Sì, Dì. Prosciutti ferrarini, da 40 anni. Il gusto di mangiare sano. Veicoli commerciali Renault, carichi di comfort. E oggi, con un finanziamento fino a 20 milioni su traficche, fino a 14 milioni su espresse e sui van, in 24 mesi a interessi zero. Moran, il nuovo album. Effetti, da StudioLine. Style and love for my hair. Gel fondant. Liquid gel. Spray film. Effetti, da StudioLine. Del L'Oreal. Love effects. Style and love for my hair. Da quanto tempo sto dormendo? Sette anni. Il McCullin sarà pronto. Sette anni in botte. Non perdere nemmeno un minuto. Baresi e Costa Curta. Un'intesa vincente. Come la nuova linea viso-corpo Intesa Purom. Doccia shampoo in gel. Pro. Neuro. Tonificante. Alginsec. Intesa Purom. E anche Deodorant Parfumé. Per essere a posto 24 ore su 24. Intesa Purom. Una certezza. Intesa Purom. La certezza di piacere. La certezza di piacere. Sabato 3 febbraio nasce un'altra bellissima Ford. Ford Galaxy. Ford consiglia di acquistarla soltanto dopo averla trovata. Allora da lunedì 5 febbraio colpo di fulmine andrà in onda tutti i giorni alle due e mezza. Perché andremo in onda tutti i giorni? Beh perché c'è sempre più gente che ha voglia di conoscersi, di incontrarsi, di innamorarsi. E allora perché stare sempre rinchiusi dentro casa a guardare la televisione, sempre spentico. Riuscite, andate nelle piazze, divertitevi, conoscete gente, non state chiusi a guardare la televisione. Che mamma, non lo dovevo dire. Da lunedì 5 febbraio su Italia 1 colpo di fulmine. Le vedete quelle due? Io vado a sedermi con loro.